Siamo insieme alla dottoressa Michelle D'Agosta, salve dottoressa. Salve, buonanotte. Allora dottoressa, lei è una psicologa, psicoterapeuta e ipnoterapeuta. Qui mi sorge la prima domanda, che cos'è l'ipnoterapia? L'ipnoterapia è un trattamento che utilizza la transe, un insieme di fenomeni specifici naturali della mente, della nostra mente, i specifici in quanto è caratterizzato da modificazioni dello stato di coscienza, distacco dalla realtà circostante, i focalizzatori...